Campagna elettorale agli sgoccioli per le elezioni amministrative che si terranno domenica 26 maggio in 90 comuni della provincia, compresa Cremona. Ed è soprattutto sul capoluogo che l'attenzione è puntata. Dopo settimane di relativa calma piatta con i candidati e le loro liste impegnati ognuno nella propria corso, negli ultimi giorni si inizia a notare nervosismo e contrapposizioni forti. Ad emergere soprattutto il duro confronto tra il centro-sinistra, il governo della città e il centro-destra che cerca di tornare al potere. Toni del dibattito accesi, combordate, scambiate soprattutto sui social e tramutate nella realtà in faccende legali, come ad esempio l'affair dell'Infopoint e quello del candidato leghista coinvolto in un procedimento penale dimessosi dalla lista. La battaglia continua, son di post su Facebook e video, come l'ultimo postato da Alessandro Zani che cavalca con toni molto leghisti il tema dell'immigrazione, mostrando persone di colore che giocano ai videopoker e chiedendosi ma dove trovano i soldi. Immagini che hanno toccato la pancia dell'elettorato del Carroccio e sollevato critiche dall'altro lato, dove partono nuovi attacchi alla Lega. In particolare si contesta proprio il provvedimento preso nei confronti dell'ex candidato al Consiglio Comunale Di Giovanna, che dopo aver patteggiato per il caso dell'incendio una discoteca centrale del latte, è stato costretto a rinunciare alla corsa, ma il suo nome figura ancora nell'elenco pubblicato sui manifesti elettorali. Una presa in giro, hanno commentato gli avversari. Mancano sei giorni ma c'è da scommettere che la campagna elettorale riserverà altre sorprese.